ciao ragazzi su del tarfone allora rieccosi qua sono andato a comprare un po' di munizioni e adesso siamo qua a fare repulisting nella zona non so cosa ci sia per cui muovediamo sempre i soliti goal caccia Blake, voglio che mi ascolti come un fratello Questo affare con Eddie non mi piace per niente Da quando in qua i soci minacciano di ucciderti se le cose non vanno come dicono loro? Siamo nella merda fino al collo Non vedo alcuna via d'uscita A parte chiudere baracca e tagliare la corda, ovviamente Devo parlarti a quattro occhi Lo dico per il bene di entrare Bella la cassaforte messa qua Bella aprire un colpo solo Uh, munizioni 308 Che sono, per intenderci, queste Radiazioni A parte i giochi non ci sono niente Ok Un altro goal in meno Uh, fico, questo lo voglio attivare Allora, world Per cui la R c'è di sicuro No, la O c'è La O e la R ci sono di sicuro Uh, vediamo rank Allora, con board ne ho beccate due Comando e le protector Modalità Assistente della metropolitana Tutore delle leggi Avviso del fuoco Soccorritore Operaio Predefinito Ma io lo metto come Operaio Attivazione Protectron a rapporto Proteggere e servire Mi piace sto Un laboratorio alchemico Questo magari più avanti potrebbe diventare un Come si dice Un possibile vanposta Roba utile Non mi pare di Vedere nulla Banco per le armi Tecnica di benzina Prendiamola C'è la fusione Questo spegniamola Non so se no Chiave della roulotte Perfetto Andiamo a vedere La roulotte Piave Piave Attenzione Rilevata Violazione Delle norme Ultima Violazione Rilevata 9999 Ore Va Egg Eccola qua La roulotte Uh Munizioni Bello Piave anche dentro le cose Abbiamo finito In teoria Sta missione No Si Minchia Facile 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 Oh Cioè Veramente E' stato Quasi più Tra virgolette Difficile Quella del Della metropolitana Piccata c'era molto più gente Qua c'erano 4 goal Bello è che sto facendo tutte le missioni secondarie Per cui sto prendendo un bordello di livelli Quando mi troverò con la missione principale Che ci sarà la gente con le peggio armi e armature No beh dai Non sono messo male come armi e armature Comunque E siamo ancora a 17 batterie Per cui Ce le stiamo giostrando bene Guarda che c'è La zona è sicura? Affermativo Davvero? Forse non sei un peso morto come pensavo Ecco la ricompensa Ho sempre qualche ricognizione da fare Preparati alla prossima missione E torna da me Un altro livello Quando vuoi Perfetto Segnalerò la posizione sulla tua mappa Ci vediamo alla fine della missione Ok Direi che questo potremmo andarlo a fare Intanto facciamo magari anche il livello Eh? Quasi quasi Scriviamo due punti Vediamo se sta sbloccato finalmente scienza Eccolo qua Boh Così possiamo modificare Cazzo Poi così Poi così negozi Potremmo 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 Insediamenti Vabbè Livello 14 Carisma 6 Dobbiamo andare anche ad Hardware Town Per cui E fare la missione E fare la missione qua Per cui tanto vale che andiamo Di qua Che è la missione Quella dei Dei coloni Bello cazzo Mi ha sparato e rimbalzato sull'armatura Grazie A presto Biarri No Il biarrificio lo devo salvare Lo devo far mio Biarri Biarri ti mandano i minuti sì sono qui per aiutarmi che succede? c'è un gruppo di pregoni che continua a tormentarci rubano il nostro cibo e le nostre provviste e ci minacciano di morte se non gli diamo quello che vogliono sappiamo da dove vengono ma non siamo in grado di affrontarli hai idea di quanti sono? non saprei l'ultima volta erano in tre ma chissà quanti ce ne sono nella loro base andiamo a fare il repulisting sai quando una giornata può definirsi una buona giornata se quando è finita hai lo stomaco pieno allora ma sì dai facciamo questa missione qua ehm fai casa pulita sì peradone backstreet ok andiamo bella la visuale comunque della minchia sembra la zona contaminata visuale dentro l'armatura è fighissima un attimo no niente no niente no niente Qua c'è qualcuno che si diverte senza di me Che è che si diverte senza di me qua Che figo Sei impaccato Cioè ragazzi non perché ti verano Mi sarei anche un'armatura atomica Oh che palle i saccheggiatori E non c'è più Ma perché la gente appena mi vede deve sparare Cioè io non voglio essere Cattivo Però mi costringono Se veramente sparan qualsiasi cosa si muove In questo fallout qua Senti quant'altra gentaglia che spara Era su di qua mi pare Scusate un attimo ragazzi Due secondi telefono Rieccomi ragazzi scusate telefono Andiamo a vedere che si diverte senza di noi qua Ma vedete che si stanno divertendo anche abbastanza bene Sì anch'io voglio giocare Ho resistito a tutto quello che il Commonwealth mi ha lanciato Effettivamente una manina contro supermutante La Carvana La potrei anche dare Dov'è l'altro? Ok E vado su Munizione Munizione Guardia del caravana Ottimizzata fusile secchino Prendiamolo Prendiamolo Ma che figata è Nop Allora qua c'è Diamond City Perfetto Ma che figata è Nella zona dove dovevo andare ci siamo quasi No ci siamo E tu che vuoi Ma sei seria? Cioè mi sembra di essere uno sceriffo Tipo un ultra mega armaturone atomico E pistolina Cioè pistolina Non è neanche una pistolina che non scherza questa Sbaglio sono torrette queste Ma da LOL Hanno messo una torretta nei cesti Vabbè Non c'è più la torretta Vediamo cosa mi da Munizioni Ok Accendiamo un po' di luce va Che vorrei Che vorrei vederci Ok Nucleo di fusione rimosso Ah ok va bene Beh si giustamente è finito Ok Entriamo a divertirci direi ragazzi Allora Allora Che cosa è una cosa Cazzo sì Cazzo sì Solo i codardi si nascondono Prima o poi finirà i codi Scaldati scaldati che vengo io a raffreddarti tranquillo Ah ma tranquilli ragazzi Arrivo eh Ma effettivamente qua dentro la luce è un po' fastidiosa No Mi sto prendendo tutte le mie varie cose Sinceramente Che tutto è mio Ma cosa vuoi tu Ma lasciami stare I coloni di questo luogo Munizioni Stimpac Calibro potente Silenziatore Uh calibro potente Interessante Cassaforte Apri Media Non riesco a decifrare il codice Tappo munizioni No no Non ho usato nessuno sted Ragazzi Bellissimo Il loro sacchiotto che si legge Mentre tutto sul battle Salve Salve anche a lei Non mi ero ancora presentato Sono il signor Talfone Sono un agente commerciale E le presento I miei proiettili Basta Finiti Sì 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 Oddio Oddio Io godo È bloccata Non so di verti un botto Salve Salve Sì boh ragazzi direi che possiamo uscire con calma e con tranquillità intanto il nostro macello l'abbiamo fatto abbiamo usato praticamente un nucleo cioè un nucleo l'abbiamo usato fino adesso per cui neanche tanto vi direi andiamo a finire la missione no giusto andiamo a finire la missione e direi che per oggi il nostro appuntamento finisce qua salve si lo so che l'ho svegliata mi scusi ma brava brava ora do cazzo sta eccolo lì giustamente gli serve difesa ok la direi che a posto e anche questa è stata fatta, per cui ragazzi dal terfone è tutto, un salutone alla prossima, ci vediamo nel prossimo episodio ciao ciao